Elisabetta Canalis potrebbe essere incinta. L'ex velina quindi potrebbe essere in attesa del suo primo figlio dal compagno Brian Perry. E questa la notizia che sta facendo il giro della rete. Non è la prima volta che Elisabetta si ritrova ad essere al centro del gossip soprattutto per la sua vita amorosa. Adesso però il gossip punta i propri riflettori su un probabile lieto evento che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. L'indiscrezione è stata lanciata dal programma di Sylvia Toffanin, verissimo, durante la classica chiusura dei giri di Valser lo scorso sabato 10 maggio. Fino ad oggi però non è giunta ancora alcuna conferma né smentita al riguardo. Solo poche settimane fa invece sembra che Elisabetta Canalis stesse attraversando un periodo di crisi proprio con il compagno Brian Perry. In attesa della conferma della presunta gravidanza di Elisabetta Canalis prendiamo in considerazione i primi indizi. L'ex velina ha cambiato stile di vita, ovvero ha smesso di fumare. Questo però potrebbe averlo fatto proprio per non danneggiare la propria salute, ma di solito una donna fumatrice rifiuta la sigaretta soprattutto quando sa di essere in dolce attesa. Un altro indizio sta nel fatto che Elisabetta Canalis avrebbe smesso di praticare il Krav Mag, uno sport praticato dalla Showgill per imparare alcune tecniche di combattimento per l'autodifesa. Non è un mistero quanta passione Elisabetta nutra per questo sport e le sue recenti rinunce fanno sospettare che la notizia della gravidanza potrebbe essere vera. Per adesso però l'ex velina non ha ancora commentato la notizia.